Ciao a tutti, io mi chiamo Matteo Rubboli e questo è il canale di Vanilla Magazine dove parlo di storia, cultura, curiosità e leggende. Oggi parleremo della misteriosa vita di Anche Senamun, sorella e sposa reale del faraone Tutankhamun. La vita di Anche Senamun, regina d'Egitto durante il periodo di regno del faraone Tutankhamun, rappresenta un intricato enigma per tutti gli appassionati di egittologia al mondo. La ragione è da ricercare nella damnazio memoria del padre di Anche Senamun e Tutankhamun, il faraone Okhenaton, di cui si cercò di dimenticare ogni gesta a causa della sua eresia monoteista amarniana e della stessa sorte che subì il nonno Ai, successore al trono di Tutankhamun. La regina Anche Senamun nacque nel 1348 a.C. ad Amarna, la città fondata dal padre sulle rive del Nilo, e iniziò la propria carriera reale proprio come sposa di un faraone, non di Tutankhamun ma di Okhenaton stesso. Quando il padre marito morì nel 1334 a.C., Anche Senamun divenne la sposa reale, l'unica conosciuta del faraone Tutankhamun, con il quale ebbe probabilmente due figli nati come feti morti. Le certezze riguardo la vita di Anche Senamun finiscono qui. Ricostruire le vicende di questa singolarissima regina egizia vissuta oltre 3300 anni fa è comunque affascinante, anche se è un esercizio che non può portare a verità assolute. Sappiamo infatti che Anche Senamun era la moglie adolescente del suo fratellastro Tutankhamun, che aveva sposato quando lui aveva 8 anni e lei 13, anche se si ritiene che prima di questo fidanzamento fosse stata sposata con il comune padre. Dopo la morte di Tutankhamun venne probabilmente costretta a sposarsi con suo nonno, Ai, che la fece forse assassinare per tornare dalla moglie precedente, Tei. Oppure potrebbe essere stata uccisa per aver tentato di formare un'unione con il nemico numero uno dell'Egitto, gli Ittiti, chiedendo al re Supiluliuma I un figlio con cui sposarsi. Secondo questa teoria, anche Senamun scrisse una lettera ritrovata ad Attusa che recitava. Il mio consorte è morto senza lasciarmi eredi. Tu, a quanto si dice, hai molti figli. Se accetti di inviarmi uno dei tuoi figli, egli sarà mio sposo. Non mi piegherò mai a sposare uno dei miei sudditi e ho paura. Probabilmente Supiluliuma I pensò a un inganno e lasciò tempo ad Ai, allora 69enne, di organizzare la propria successione al trono di Faraone. Questi organizzò in fretta e furia i funerali di Tutankhamon, ufficiandone la cerimonia e acquisendo in questo modo la legittimazione al regno d'Egitto. Quando il re Ittita spedì infine uno dei propri figli di nome Zananza, era troppo tardi. Ai era già al potere e lo straniero venne assassinato. Conclusa questa lotta per la successione al titolo di Faraone, che comunque potrebbe essere andata in altro modo, alcuni teorizzano che fu Nefertiti, la madre di Anchesenamon e Tutankhamon e moglie di Okhenaton, a chiedere il figlio al re Ittita, Anchesenamon morì poco dopo, intorno al 1322 a.C., quando aveva soltanto 26 anni, certamente prima della fine del regno di Ai. Zahi Awas, ministro per le antichità egizie, osserva nel suo libro Tutankhamon and the Golden Age of the Faros che la regina potrebbe aver vissuto un periodo di relativa tranquillità e felicità durante il matrimonio con il fratello Tutankhamon. L'egittologo scrive A giudicare dal loro ritratto nell'opera d'arte che riempie la tomba del re, questo era certamente il caso in cui i due sposi si amavano l'un l'altro. Possiamo intuire l'amore tra di loro mentre vediamo la regina in piedi, di fronte a suo marito mentre gli dà dei fiori e lo accompagna nella caccia. Dall'inizio del regno di Ai circa, la giovane Anchesenamon scompare dai registri storici. L'unica prova del suo matrimonio con l'anziano faraone sarebbe in un anello che porta i nomi di entrambi, ma questo potrebbe essere anche un manufatto legato alla sepoltura di Tutankhamon. L'unico modo per riuscire a ricostruire la sua storia sarebbe quello di trovare la sua tomba. Di Anchesenamon non si trovano tracce né nella tomba di Tutankhamon né in quella di Ai, e quindi è quasi impossibile ricostruire il suo destino dopo la morte del marito coetaneo. A complicare il tutto vi fu anche la damnazio memoria di Oremeb, faraone che seguì Ai, il quale tentò di cancellare ogni traccia dei suoi predecessori. Il team del vulcanico Zahi Awas sta cercando in questo periodo una sepoltura nella Valla delle Scimmie, sepolcro del faraone Ai, sperando di trovare delle camere sepolcrali in grado di dirimere questo fitto e altrimenti irrisolvibile mistero. Se ti è piaciuto il mio racconto e sei appassionato di storia, cultura e leggende iscriviti al canale di Vanilla Magazine.